Guardate che figata, i testi sono in sincrono, metto play al mio brano Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui sempre il vostro caro Michele Maralino cantatore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa, dal 2016 anche formatore e consulente musicale se è la prima volta che ti imbatti in un mio video ti invito a dare un'occhiata a questo canale YouTube di scriverti, qui tratto argomenti come la autopromozione, l'autopubblicazione, la tutela dei brani se sei un musicista nel percorso e stai facendo un po' tutto da solo qui trovi un sacco di video tutorial, guide passo passo che ti possono aiutare poi nella descrizione di ogni video trovi link per approfondire ci sono i miei corsi, i miei pacchetti di promozione, ti posso aiutare da vicino, le mie consulenze dai un'occhiata, date sempre un'occhiata alle descrizioni dei video ragazzi e iscrivetevi al canale ragazzi che dire, ci siamo finalmente anche in Italia sono arrivati i testi su Spotify che bomba allora è molto semplice per esempio prendiamo il mio ultimo singolo la vita è un'altra cosa sono sull'app per desktop di Spotify basta andare, vedete c'è questo microfonino qua in basso guardate il mouse, andate qui in basso a destra, cliccate, attivate il microfonino e scorrono i testi in tempo reale immagino che ci siano i testi che io ho aggiunto attraverso DistroKid ok? DistroKid è il distributore digitale che io utilizzo dal 2020 e permette appunto di aggiungere, di sincronizzare i testi per le storie di Instagram ma una volta che lo avete fatto lì ve lo ritrovate anche su Spotify se non utilizzate DistroKid siete dei pazzi, io ve lo consiglio in descrizione trovate il link per praticamente lo sconto del 7% quindi in descrizione se volete iscrivervi pagate tipo 25 euro l'anno potete inserire tutta la musica che volete avete un'interfaccia semplicissima per aggiungere il testo in tempo reale vi ho fatto anche un tutorial su questo canale YouTube andatelo a vedere, ve lo faccio uscire qui nelle schede è semplicissimo, così ce l'avete anche su Spotify sappiamo quanto importanti sono i testi che cosa dire? se non utilizzate DistroKid, non so se altri distributori hanno questo sistema così semplice per aggiungere e integrare tutto all'interno del distributore, diciamo, la possibilità di aggiungere i testi altrimenti dovete iscrivervi a Music Match che è l'azienda italiana con cui Spotify collabora e da cui Spotify prende i testi quindi se non utilizzate DistroKid potete andare su Music Match iscrivervi e caricare il testo voi guardate che figata, i testi sono in sincrono metto play al mio brano e potete fare anche il karaoke è pazzesco perché si illuminano le scritte sono arrivati i testi anche in Italia dopo una sperimentazione negli Stati Uniti guardate che bomba vedete? è tutto sincronizzato lo trovate, potete anche ascoltare la vostra musica preferita basta andare da desktop sul microfonino in basso a destra c'è il lyrics dalle app trovate proprio il pulsante testo potete scorrere col dito molto semplice fatemi sapere che cosa ne pensate e se questi video vi sono utili ragazzi vi invito come sempre a iscrivervi al canale a sostenere e commentare così mi aiutate a diffondere questi video e a farli essere sempre più visibili avvisate i vostri amici e tutti i vostri colleghi tutti i musicisti che sono arrivati i testi su Spotify commentatevi, aspetto, iscrivetevi al canale grazie, noi ci vediamo ad un prossimo video ciao! 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 ciao!